Taomoda è sicuramente una vetrina straordinariamente importante in una cornice eccezionale come Taormina che di per sé rappresenta l'arte e la moda in assoluto e soprattutto per la Sicilia quindi un'icona per la Sicilia e per IDA il Taomoda sicuramente una grande opportunità. Abbiamo pensato ad un prodotto di innovazione quindi il nostro prodotto nasce da un'idea di moda che sia una trasformazione quindi abbiamo pensato a un riciclo dell'ombrello che è trasformato in altri oggetti da pioggia è un'idea che ha fatto centro quindi grazie anche per la possibilità di averla presentata qui. Sono molto contenta perché ho la possibilità di esporle per la prima volta il mio nuovo progetto di realizzare dei capi 100% ecosostenibili. Faccio vedere questa che è una maglia realizzata con tessuto Econil che è questo tessuto che proviene dal riciclo delle reti da pesca recuperate dai fondali merini. Sono molto contenta di essere qui a Taormina per il Taomoda. Ho potuto presentare uno dei miei outfit invernali. Io nasco come architetto, mi piace molto disegnare anche le fantasie dei miei capi, in questo caso sono produzioni italiane anche le lane e oltre che la produzione sartoriale sul nostro disegno. Felici di essere presenti, di essere stati selezionati e di rappresentare la Sicilia che per noi è una Sicilia un po' non convenzionale, una Sicilia austera, minimalista. Però è un'esperienza bellissima, io sono felice di esserci, circondata da eccellenze straordinarie. In questo caso rappresento il figo d'India che è diciamo testimonianza del nostro territorio, però in chiave assolutamente moderna, contemporanea, sia nell'utilizzo della materia prima che in questo caso è argento, impreziosita da pietre preziose. È stato un battesimo di fuoco perché noi siamo un disetto che è nato un mese fa, però quello che volevamo dare in questo caso, prova, era che comunque i brand siciliani sono molto validi, hanno dei prodotti variegati sicuramente, ma comunque sia di uno standard e un livello molto alto. Riuscire a mettere in mostra quelle che sono le nostre creazioni, che nascono proprio dalla nostra sicilianità, però con un sapore internazionale, essere presente in un evento così importante che è uno dei grandi eventi, è un evento che mette in risalto quello che è la moda, soprattutto nella nostra isola, è di un'importanza incredibile. È un'emozione grandissima essere qui a Taomoda, questo è un abito in seta pura, in voal e quello è un robomontò rivisitato che può essere indossato sia da solo, appunto come dice il suo nome, robomontò, sia sopra l'abito. Sicuramente l'esposizione qui a Taormina è importante, i punti di forza della nostra linea sono sicuramente la ricercatezza dei tessuti che utilizziamo e la particolare attenzione al dettaglio, il tutto forgiato chiaramente dal Made in Italy. Non sono un osterista, ma un artigiano artista, quindi produciamo un piccolo concept di territorio, parliamo della Sicilia, quindi dai tessuti di abbigliamento, accessori di abbigliamento, fino ad arrivare agli arazzi, al discorso casa con i mori e quant'altro, alle ceramiche. È una manifestazione veramente molto interessante, il nostro marchio si chiama Gattacci e questa appunto è l'espressione della nostra creatività, noi dal 2011 lavoriamo il plexiglass e lo facciamo in maniera artigianale e qua ci sono alcuni elementi che raccontano un po' le nostre collezioni. Il Tamodo ha sempre rappresentato una vetrina abbastanza importante a livello mondiale, è sempre un piacere far parte di questi eventi, il nostro concept era avere un marchio di brand luxury, questo si cerca di avere un utilizzo di materiali molto pregiati, giocare molto sulle fantasie, sulla modellistica. Mi è onorata di partecipare al Tamodo Moda di Taormina, di avermi dato questa possibilità di far conoscere il mio brand, comunque trovare anche in questa persona i contatti giusti per far apprezzare il mio prodotto non solo qui ma anche all'estero. Per noi Taomoda è il ferro all'occhiello degli eventi in Sicilia, ovviamente è una bellissima vetrina sul mondo interamente made in Sicily e per noi essere presenti qui è ovviamente un grande orgoglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.